In tutta la costa azzurra è stata Marine Le Pen la più votata alle elezioni presidenziali francesi. Un deciso cambio di rotta rispetto al passato, quando nelle regioni vicino al confine le urne avevano premiato Sarkozy, relegando più indietro la rappresentante dell'estrema destra francese. Nel Dipartimento delle Alpi Maritime, dove hanno votato quasi 762.000 persone, la Le Pen ha ottenuto il 27,8%, davanti alla destra di François Fillon 27,4% e al centrista Emmanuel Macron 19%. Risultati simili anche in tutta la Corsica e ancora più ampi se ci si sposta verso Ponente, nel VAR, dove Marine Le Pen ha superato il 30%. Tutto questo è sintomo di un malessere generale, con in più tutti i problemi legati all'immigrazione e alla crisi internazionale, con gli attentati che la stessa Francia ha dovuto subire. In generale è comunque Macron, vincitore nell'ovest del paese, a guidare con il 23,8%, seguito proprio dalla Le Pen al 21,5% e da Fillon al 19,9%. Dietro rincorrono l'estrema sinistra, 19,6% e molto staccata la sinistra tradizionale, 6,3%. Si va quindi ora al ballottaggio, che vedrà il confronto diretto tra Macron e la Le Pen.